Ecco, Financiation. Ecco, Financiation. Ma, siamo in crisi, ma, per chi truffa là, fiamma gialle qua. Strada contro mano vanità, ne si sa, c'è un carico di falso e contrabbando che va, che scontrescia, che scontrescia. Con tutto questo spaccio di sostanze che c'è, niente ad ogni angolo è pericolo, è Crimination. Crimination. Ehi, amico mio, non capisco perché, tu vuoi fare il cieco, poi se lince con me, la Stutention. Ai ai ai, la Stutention. Con tutta questa crisi di valori che si ha, si vive più di armi che di moralità. Assassination. Ai ai ai, Assassination. Non, 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 non. Ma, questa società, se lo vuole sa, che ce la farà. E la finanza c'è, quando pensa a te, pensa anche un po' per me. Ma, questa società, se lo vuole sa, c'è un po' per me. Bravi, ma bravissimi ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore Isabella Morra di Matera, guidati dalle professoresse Maria Patrizia Mongello e Maria Teresa Vena, ricordando, so quanto ci tenete, la vostra amica Ilaria, che è stata con voi fino a tre mesi fa e che purtroppo adesso non c'è più. Con questo video voi avete partecipato al concorso Fisco e Scuola 2014, indetto dalla MIURE e dall'Agenzia delle Entrate, finalizzato proprio a trasmettere il valore etico dell'educazione alla legalità economica e la cittadinanza attiva e consapevole. Grazie, grazie. Arrivederci ragazzi. Complimenti ancora. sia per il video che per l'esibizione.